Ciao, sono Lorenzo Cantarini, sono uno youtuber, parlo di fantacalcio e ancora utilizzo fasce e slot. Ma vai a cagare! Ormai sono 5 anni che do consigli di fantacalcio sul mio canale, sia per quanto riguarda l'asta, sia per schierare la formazione ogni giornata. Sono l'ideatore della regola del 72, nonché il più spregiudicato fantallenatore alle aste. Quello che ha teorizzato la strategia dei top 11 che, salvo infortuni e salvo impazzimenti generali degli allenatori e salvo la sfiga, ma quella è determinante in qualsiasi fantacalcio, anzi in qualsiasi ambito della vita, vi permette sicuramente di lottare almeno per il podio. Insomma, in 5 anni ne ho viste di ogni e ogni anno c'è la guerra a distruggere le certezze che noi fantallenatori storici abbiamo incamerato nel nostro bagaglio di esperienza. E prima la griglia dei portieri casa trasferta, che era un contenuto vecchio. E poi la diffidenza verso i centravanti pippe, che non segnano manca a porta vuota. Non sono scarsi, sono sfortunati, hanno gli XG alti. No, è un somaro cazzo! Quest'anno c'è la moda della demolizione di fasce slot, quelle simpatiche classifiche che abbiamo sempre fatto nel corso dei secoli per prepararci alle aste, tradotte poi in nomi e numeri da noi fanta-youtubers. In ogni ambito della vita, noi mentalmente facciamo fasce slot. Facciamo spesa? Mentalmente facciamo fasce slot dei prodotti, catalogando inconsciamente in una classifica mentale i prodotti in base alla qualità, in base al prezzo e in base al rapporto qualità-prezzo. Meglio questa o questa? Perché poi è quella la vera utilità delle fasce e degli slot. Non identificare i nostri obiettivi per decidere chi prendere, ma suddividere la lista dei calciatori acquistabili all'asta in base alla loro appetibilità. Eh, ma cos'è l'appetibilità? L'appetibilità è il valore che include la propensione del fantallenatore medio ad acquistare un determinato giocatore. Più il giocatore è appetibile, più sarà richiesto dai vostri avversari nelle aste. E dunque più salirà di prezzo. Quindi attraverso fasce slot noi cerchiamo semplicemente di prevedere l'andamento della nostra asta e noi fanta-youtuber abbiamo l'arduo compito di prevedere l'andamento delle aste in Italia. Sì, siamo dei megalomani. Per cercare di capire in che modo struttureremo la nostra squadra già prima dell'asta. La differenza tra fasce e slot ormai la sapete, l'ho trattata in 318 video. E per i nuovi vi faccio dai un breve recap. Le fasce sono una suddivisione dei giocatori di un determinato ruolo in basso alla loro forza. Prendiamo per esempio gli attaccanti. In prima fascia metteremo i potenziali bomber da 20 gol. In seconda fascia i bomber tra i 15 e i 20 gol. In terza fascia i bomber tra i 10 e i 15 gol. E così via. Ma non riguardano solo i gol. Ad esempio per quanto riguarda i difensori in prima fascia metteremo quelli che nella stagione potrebbero garantirci la media voto più alta se abbiamo il modificatore. Qualche bonus, meno cartellini, più partite da titolari, la possibilità di poterli scambiare durante la stagione. Insomma non soltanto la fanta media ma tutta una serie di fattori che ci rendono un giocatore appunto più appetibile di altri. E quindi in ogni fascia abbiamo un numero variabile di giocatori. E gli slot quindi? Per ottenere gli slot semplicemente prendiamo la nostra lista di giocatori suddivise in fasce e facciamo dei gruppetti composti da un numero preciso di calciatori. Che è uguale al numero di partecipanti alla nostra fantalega. Siamo in 8? Gli slot saranno composti ognuno da 8 giocatori. Siamo in 10? Gli slot saranno composti ognuno da 10 giocatori. Bravo! Siamo in 9? No, cercate il decimo se tenete la vostra salute mentale. Ma se ti piace il fantacalcio, se sei un esperto nell'acquistare e vendere calciatori, perché non provi Starks, la piattaforma attraverso la quale puoi acquistare i token ufficiali dei tuoi calciatori preferiti? Dici cosa sono i token? I token sono come delle piccole parti del cartellino virtuale del calciatore uniche che trovate soltanto su Starks che potete acquistare, vendere, veder, rivalutare in base alle prestazioni dei calciatori ed ovviamente potete partecipare, come ben sapete, allo Starks Game. Il gioco attraverso il quale potete schierare i calciatori di cui possedete i token, cioè di cui possedete il cartellino virtuale in un gioco nel quale potete vincere premi targati Apple, targati PlayStation, targati Dazon, targati Amazon. Insomma, un gioco meraviglioso. Ancora la community non è ampissima, dunque le possibilità di vincere sono estremamente alte. Il link è qui sotto in descrizione, oppure, che referra al code Canta15, ed entrate anche voi in Starks il calcio del futuro. Le facce e gli slot sono quindi fondamentali per capire che giocatori in un'asta normale potrete prendere nella vostra fantarosa. Prendiamo come esempio una Lega A8 con modificatore. Un'asta in condizione di equilibrio perfetto dovrebbe trovare a fine asta 8 squadre composte da un primo slot in porta ciascuno, un primo, un secondo, un terzo, un quarto slot in difesa ciascuno, un primo, un secondo, un terzo slot a centrocampo ciascuno, un primo, un secondo, un terzo slot in attacco ciascuno. Ovviamente poi in ogni slot ci sono slot alti e slot bassi, cioè Lautaro, attaccante in testa al gruppo dei primi slot, ovviamente è più forte e costerà di più di Zapata, attaccante in fondo al gruppo dei primi slot. E lì sta la bravura del fantallenatore, cercare di prendere per ogni slot il calciatore più forte possibile. E cosa fa il fantallenatore più bravo? Cerca di prendere i migliori slot possibili, quindi magari avere un primo e due secondi slot in attacco, o addirittura due primi slot. E poi non è detto che nel primo slot ci siano i calciatori più forti. Ad esempio lo scorso anno De Ketelare non era neanche tra i primi quattro slot a centrocampo. Io lo sapevo che avrebbe fatto una stagione strepitosa, sapevo che sarebbe stato uno dei miei centrocampisti titolari in ogni fantacalcio, ma nonostante tutto non l'ho inserito nei primi tre slot, perché sapevo non essere appetibile nelle mie aste e nelle aste italiane. Quindi non è detto che dobbiate per forza prendere giocatori negli slot, ma attraverso fasce slot riuscite a seguire l'andamento dell'asta dei vostri avversari e a prevederne le loro mosse. E non vi sembra un motivo abbastanza forte per continuare ad usare fasce slot? Ovviamente farò video dedicato a fasce slot sul mio canale YouTube e sui miei canali social, a partire dalla rivelazione dell'istone fantacalcio prevista come al solito attorno alla fine del mese. E troverete le mie fasce e i miei slot aggiornati giornalmente su Fantalab, la suite attraverso la quale potete gestire il pre-asta, l'asta, e raga ci sono delle novità elettrizzanti per l'asta, ed il post-asta per la consegna della formazione. E poi, a breve, ci sarà una novità mondiale che rivoluzionerà per sempre il social gaming calcistico. Ok, dai, diamo un senso fantacalcistico a questo video. Vi svelo quali sono, secondo me, all'11 luglio, giorno di registrazione di questo video, i miei primi slot per ogni reparto in una Lega 8 con mod. Chi siete? Vai, iniziamo! Portieri Sommers, Di Gregorio, Meret, Maignan, Svilar, Carnesecchi, Provedel, Milinkovic, Difensori, Di Marco, Teo Hernandez, Buongiorno, Bastoni, Bremer, Di Lorenzo, Tomori, Dunfris, Centrocampisti, Gudmundson, Pulisic, Cialanoglu, Coopminers, De Ketelare, Douglas Luiz, Barella, Zaccagni, e attaccanti, Lautaro, Vlaovic, Thuram, Baraschelia, Scamacca, Di Bala, Leao, Zapata. Ovviamente, al netto della situazione centravanti Napoli, al netto della situazione centravanti Roma, e al netto di possibili cambi ruolo che... Noi Fantacalcio VIP a breve faremo dei video appositi. Ma perché non passare all'estate con la maglia di Douglas Luiz? Eh? Ah, Douglas Luiz è andato alla Juventus, no, rifacciamo. Ma perché non passare all'estate con la maglia di Zaniolo? Ah, pure Zaniolo è andato all'Atalanta in una nazione. Ma perché non passare all'estate con la maglia dell'Aston Villa? Così, a caso, e passare un'estate meravigliosa con tutti che ti fermano e ti chiedono Ma perché c'è la maglia dell'Aston Villa? Dici, Lorenzo, ma dove la trovi la maglia dell'Aston Villa? Ma la trovi su calciostore24.com Il negozio online di magliette sportive più belle ed economiche del web Trovi le magliette più strane possibili di tutte le squadre italiane, europee e mondiali ad un prezzo veramente irrisorio. Pensate, la maglia dell'Aston Villa la pagate meno di 30 euro e se inserite il codice sconto LC avete un ulteriore sconto del 10%, quindi la pagate poco più di 20 euro. Il link è qui sotto in descrizione ma basta inserire il codice sconto LC per avere lo sconto del 10% E niente, ragazzi, poi trovate anche le felpe, le tute, i piumini diciamo che sono 86 gradi pensi ai piumini le scarpe da calcio e da calcetto che invece vi servono tutto quanto su calciostore24.com Vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non lo avesse ancora fatto mettete un like se questo video vi è piaciuto e poi abbonatevi solo 99 centesimi al mese perché con l'abbonamento il più basso del web potete avere le mie fasce di mie slot su Fanta Lab in più potete avere priorità di risposta nelle live che inizieranno dal 22 luglio Nel frattempo un saluto dal secondo divano più famoso del web e se hai capito la battuta sei uno sozzone ovviamente la strada è un vinto e fatta la turba canta e salta festa tutta la notte turera solo un'estate ma chi se ne fotte